Amici di Gnutuscia siamo a Montefiascone nella piazza della cattedrale di Santa Margherita e siamo in compagnia di Monsignor Fabio Fabene che attualmente è capo ufficio della congregazione per i Vescovi, sostituto della segreteria del collegio cardinalizio e giudice esterno del tribunale di prima istanza del vicariato di Roma. E' autore di un'ingente produzione letteraria sui Vescovi e pastori che hanno fatto la storia della diocesi e di questo ne parliamo proprio con Monsignor Fabio. Mi sono interessato in questi ultimi anni a tracciare il profilo biografico del cardinale Marco Antonio Barbarigo che è stato Vescovo di Montefiascone e Corneto, l'attuale Tarquinia, dalla fine del 1600 all'inizio del 1700. E ha portato qui veramente un'area nuova che era all'epoca l'area del concilio di Trento e soprattutto ha operato nel campo della formazione giovanile attraverso le scuole per le ragazze, le donne, insieme a Santa Lucia Filippini, ai giovani attraverso una scuola annessa al seminario nel quale hanno trovato la formazione i seminaristi, i futuri sacerdoti di queste due diocesi. Un impegno molto ingente quello del cardinale Barbarigo perché ha incarnato veramente l'ideale del buon pastore attraverso la sollecitudine per tutto il popolo e in modo particolare ha saputo anche dare un'anima culturale a questo nostro territorio proprio attraverso queste scuole e in modo particolare attraverso il seminario da lui fondato che per l'epoca era un'autentica università umanistica e teologica. Ancora oggi noi conserviamo una ricchissima biblioteca da lui lasciata e arricchita lungo i secoli e poi anche volle una tipografia propria del seminario per stampare i libri che venivano utilizzati negli studi seminaristici e teologici. Ancora oggi noi troviamo tanti libri appunto dove è scritto la casa editrice del seminario di Montefiascone. Quindi poi il secondo vescovo di cui io ho trattato è a noi molto più vicino, Monsignor Luigi Boccadoro, del quale non ho scritto una vera e propria biografia ma soltanto un profilo, augurandomi che altri completino quella prima descrizione che io ho fatto attraverso un'autentica biografia perché è stato un vescovo che ha operato per ben 37 anni nel contesto dell'Alto Lazio, iniziato da Montefiascone, Acquapendente e Bagnoreggio fino a Viterbo e poi è stato lui ad unificare la diocese di Viterbo così come la conosciamo noi oggi ma anche il suo impegno è stato molto vasto perché è andato proprio dal suo ministero episcopale fino all'attenzione verso i giovani attraverso quella che è stata la scuola di arte e mestiere Cardinale Salotti e poi anche attraverso un'opera, una presenza sempre attiva e sempre spronante verso le nostre popolazioni. Bene, parliamo adesso dell'ultima produzione letteraria di Monsignor Fabio Fabene, Gesù Cristo, Volto del Natale che è un libro che è stato presentato a Roma ma anche qui a Montefiascone ed è stato accolto egregiamente da tutta la comunità e sta avendo veramente un ottimo successo. Monsignore, parliamo di questa sua ultima opera. Questo libro è nato appunto in occasione dello scorso Natale e nel quale io ho voluto offrire una prospettiva e anche una riscoperta della festività del Natale che come io scrivo nel primo capitolo nonostante il secolarismo di oggi conserva ancora un suo fascino. Tutti celebriamo il Natale e lo celebriamo anche in modo più o meno autentico, però è necessario riscoprire la originalità della festa del Natale e il suo vero significato. La festa del Natale è la festa di Gesù Cristo, è la festa della nascita di Gesù Cristo. Infatti il titolo del volume è intitolato Gesù Cristo, Volto del Natale, proprio perché il Natale non è una festa soltanto di luci, di dolci o di buoni sentimenti. Il Natale ha un volto e questo volto è Gesù, del quale io descrivo nella prima parte del libro chi è Gesù e lo faccio alla luce della fede della Chiesa dicendo che è il Verbo di Dio, il Verbo incarnato, il Rivelatore del Padre e il Salvatore dell'uomo. Cristo ieri, oggi e sempre è colui che ci rivela il volto di Dio anche a noi e ci salva con la sua opera salvifica. Duemila anni fa attraverso la sua morte e risurrezione, oggi attraverso tutta l'opera sacramentaria che ci fa rivivere sacramentalmente quella prima sua Pasqua nella quale noi veniamo oggi salvati e riconciliati con Dio e tra di noi. Nella terza parte del libro lei traccia la figura della Beata Vergine Maria? Sì, prima della terza parte c'è la seconda parte nella quale è un po' originale questa seconda parte perché io commento le cosiddette antifone O che sono le grandi antifone dell'ultima parte dell'Avvento nella quale la Chiesa si prepara a celebrare la solennità del Natale proprio manifestando lo stupore per l'iniziativa di Dio che si fa uomo. Non è per Dio che diventa uno di noi, come lo acclama la ultima antifona del 23 dicembre, Egli è l'Emmanuele e anche attraverso questi titoli tratti dall'Antico Testamento che vengono proclamati nelle antifone si delinea il volto di Gesù il quale è per noi la sapienza, il re, la chiave di Davide e colui che appunto viene nel nostro oggi e ci rivela il volto di Dio. La seconda parte poi dell'antifona è una grande invocazione, l'invocazione della Chiesa che implora a Gesù vieni, vieni perché abbiamo bisogno della sua presenza, della sua consolazione, del suo aiuto per camminare verso il Padre e per costruire noi un mondo più umano, più giusto e più fraterno. E questa seconda parte dell'antifona viene puntualmente attualizzata dal libro nella realtà quotidiana di oggi. E la terza parte poi appunto parla della Madonna perché non si può parlare della Natale senza parlare della Madonna come ognuno di noi quando è nato è nato da una madre così Gesù nascendo è nato da Maria e io la presento attraverso il titolo bellissimo di Vergine Madre. Maria sappiamo ha concepito Gesù in modo virginale e è diventata madre per dono, per opera dello Spirito Santo. Maria Vergine Madre è colei che ancora è madre per noi, infatti come afferma il Concilio Vaticano II ella ancora oggi continua a proteggere, ad essere madre di tutti noi cristiani nel nostro cammino verso il Padre e lo fa con la tenerezza, l'affetto proprio di una madre. Maria è madre amorosissima, dice il Concilio, di Cristo e della Chiesa. E poi Maria che genera Gesù alla luce anche l'immagine, l'icona della Chiesa stessa che oggi genera Cristo nel cuore dei fedeli. E qui io riporto alcuni scritti di padri della Chiesa che appunto dicono come Maria duemila anni fa ha dato alla luce il suo figlio, l'ha donato all'umanità così oggi la Chiesa che anch'essa come Maria è vergine e madre genera alla fede dei figli di Dio gli uomini e li educa nella via di Dio attraverso l'annuncio della parola evangelica, della parola di Dio e attraverso i sacramenti della Chiesa che appunto ci fanno cristiani e nutrono la nostra fede. Grazie Monsignor Fabio. Grazie a tutti.